Franco Fabrizi, noto attore italiano, ha avuto una carriera di successo nel mondo dello spettacolo, ma la sua storia personale è stata segnata da tragedie e difficoltà. Dietro le luci della ribalta e le interpretazioni memorabili si cela una narrazione complessa e travagliata. Franco Fabrizi è nato il 15 febbraio 1916 a Corte Maggiore, un piccolo comune in provincia di Piacenza, situato nella regione dell'Emilia Romagna, in Italia. Sin da giovane, Fabrizi mostrò interesse per il mondo dello spettacolo e coltivò la passione per l'arte drammatica. Nonostante le sue aspirazioni artistiche, durante la Seconda Guerra Mondiale Fabrizi fu arruolato nell'esercito italiano. Dopo la fine del conflitto, ebbe l'opportunità di frequentare la prestigiosa Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a Roma, dove perfezionò le sue abilità di attore e si mise in luce come talento emergente. Grazie alla sua formazione teatrale, Fabrizi iniziò la sua carriera professionale recitando sul palcoscenico in diverse produzioni teatrali. Il suo talento e la sua presenza scenica lo portarono presto ad essere notato da registi e produttori cinematografici, aprendo così le porte alla sua carriera nel mondo del cinema. I primi anni di carriera di Franco Fabrizi furono caratterizzati da ruoli minori in film come Domenica d'Agosto, 1950, di Luciano Emmer e Le ragazze di Piazza di Spagna, 1952, di Luciano Emmer e Antonio Pietrangili. Pur non avendo ancora ottenuto ruoli di grande rilievo, Fabrizi stava gradualmente costruendo la sua reputazione come attore versatile e talentuoso. La carriera di Franco Fabrizi spazia tra il cinema, il teatro e la televisione, coprendo diverse decadi e offrendo una vasta gamma di ruoli. Dopo i suoi primi successi negli anni 50, Fabrizi è diventato uno degli attori italiani più riconosciuti e apprezzati del suo tempo. Negli anni successivi al suo ruolo in Poveri ma Belli, Franco Fabrizi ha continuato a lavorare con alcuni dei registi più importanti del cinema italiano. Ha recitato in numerosi film di successo, come Belle ma povere, 1957, sequel di Poveri ma Belli, I soliti ignoti, 1958, e La grande guerra, 1959, entrambi diretti da Mario Municelli. La sua versatilità come attore gli ha permesso di spaziare tra generi diversi, interpretandosi a ruoli comici che drammatici. Ha dimostrato la sua abilità nel recitare in commedie leggere come Totò, Peppino e La Dolce Vita, 1961, di Sergio Corbucci e in film drammatici come Il Disprezzo, 1963, di Jean-Luc Godard, in cui ha recitato accanto a Brigitte Bardot. Negli anni 60 e 70, Fabrizi ha continuato a lavorare in produzioni cinematografiche di successo, ma ha anche ampliato la sua presenza nella televisione italiana. Ha interpretato ruoli memorabili in serie televisive come Le inchieste del commissario Maigret, 1964-1972, basata sui romanzi di Georges Simenon, e La piovra, 1984, una popolare serie poliziesca italiana. Nonostante il successo professionale, Franco Fabrizi ha anche affrontato sfide personali e problemi di salute. La sua dipendenza dall'alcol e i suoi trascorsi comportamentali problematici hanno avuto un impatto sulla sua carriera, ma nonostante ciò ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo fino agli ultimi anni della sua vita. La carriera di Franco Fabrizi si è distinta per la sua versatilità, la capacità di interpretare una vasta gamma di personaggi e la collaborazione con alcuni dei più grandi registi del cinema italiano. Ha lasciato un'impronta duratura sul cinema italiano degli anni 50 e 60 e rimane una figura importante nella storia del cinema italiano. Fabrizi si è sposato per la prima volta con l'attrice Lida Barova nel 1957, ma il matrimonio durò solo pochi anni e la coppia divorziò nel 1961. Successivamente, nel 1963, Franco Fabrizi si risposò con Elsa Martinelli, una famosa attrice italiana. Anche questo matrimonio ebbe una durata limitata e si concluse con il divorzio nel 1966. Il rapporto di Franco Fabrizi con l'alcol è stato uno dei suoi maggiori ostacoli nella vita privata. Ha lottato con la dipendenza dall'alcol per gran parte della sua vita adulta, il che ha avuto un impatto negativo sulla sua salute e sulla sua carriera. Questa dipendenza ha spesso contribuito a comportamenti problematici e a problemi personali. Purtroppo, Franco Fabrizi è morto il 18 ottobre 1995 a Roma, all'età di 69 anni. La sua morte è stata causata da complicazioni legate all'alcolismo, una dipendenza che aveva affrontato per gran parte della sua vita. L'alcolismo di Fabrizi aveva avuto un impatto significativo sulla sua salute e sulla sua carriera. Nonostante i suoi sforzi per superare questa dipendenza, le conseguenze a lungo termine dell'abuso di alcol hanno alla fine contribuito al suo decesso prematuro. La morte di Franco Fabrizi è stata un momento di grande tristezza per il mondo dello spettacolo italiano. La sua presenza magnetica sullo schermo e la sua versatilità come attore avevano lasciato un'impronta duratura nel cinema italiano degli anni 50 e 60. Nonostante le difficoltà personali che ha affrontato nella sua vita, Franco Fabrizi è ricordato come un talentuoso attore che ha contribuito in modo significativo alla storia del cinema italiano. La sua eredità artistica rimane viva attraverso i suoi numerosi lavori cinematografici e teatrali, che continuano ad essere apprezzati dai fan e dagli amanti del cinema di tutto il mondo. Invito cordialmente tutti gli amanti del cinema italiano e gli appassionati di spettacolo a iscriversi al nostro canale per continuare a esplorare la vita e la carriera di grandi artisti come Franco Fabrizi. Attraverso approfondimenti, curiosità e momenti indimenticabili, vogliamo preservare e condividere l'eredità di questi talenti straordinari.